Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo appuntamento con il Global Italian Virtual Group. Io sono Luca Bovo, vi ricordo che il webinar di oggi ha come titolo novità di SQL Server 2017 e lo speaker è Gianluca Ozza. Come ogni volta vi do qualche notizia sul Pass. Vi ricordo che dal 6 al 9 novembre a Seattle, come ogni anno, ci sarà il Pass Summit. Se pensate di partecipare, noi abbiamo un buono sconto di 150 dollari. Vi ricordo che fino al 22 settembre avete la possibilità di strappare il prezzo in Advanced Booking e dopodiché pian pianino il prezzo aumenterà. Questi sono i webinar che sono schedulati per quanto riguarda gli altri Virtual Group. Come vedete ci siamo noi oggi, ma nei prossimi giorni e per tutto il mese di settembre ci sono questi webinar schedulati. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad aderire e iscrivervi agli altri Virtual Group. Vi ricordo che questi sono tutti i Virtual Group attualmente attivi e che erogano costantemente webinar ogni mese. Ce ne sono localizzati in lingua, mentre invece la maggior parte sono in lingua inglese e sono un attimino più specializzati su un topic ben preciso. Questo invece è l'altro filone sotto il cappello di passos, sono i SQL Saturday. Come vedete ce ne sono un po' in giro per il mondo. Vi invito, se non l'avete mai fatto, a partecipare e perché no a dare la vostra lesione come speaker perché lo scopo sia dei SQL Saturday che dei Virtual Group è quello di condividere la conoscenza per quanto riguarda SQL Saturday. Vi invito ovviamente a iscrivervi al pass per tutta una serie di motivi. Uno per rimanere aggiornati su quelli che sono le iniziative del pass e per quanto riguarda sia i Virtual Group che i SQL Saturday per essere comunque tenuti aggiornati su quelle che sono le varie attività nel corso dell'anno del pass. Questi sono i riferimenti del pass. Ovviamente è presente sia su Facebook che su LinkedIn. vi ricordo che l'urlepass.org Per quanto mi riguarda io ho terminato. Passo la parola adesso a Gianluca Otz per il webinar di oggi. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Benvenuti a questo webinar sulle novità di SQL Server 2017. Vi dico subito che magari per chi ha già visto la mia presentazione riguardo al SQL Server 2017 fatta alla VPC o al SQL Saturday di Pordenone sostanzialmente la presentazione è più o meno la stessa con magari qualche piccolo aggiornamento ma diciamo che il grosso della presentazione è quello. Due parole su di me. Mi nome è Gianluca Otz. Sono fondatore e mentor di SoliQ. Lavoro nel campo di SQL Server da più di vent'anni. Sono un decano di SQL Server. Ho iniziato con la versione 4.21.96 e ho visto praticamente sul campo tutte le versioni fino ad oggi. Mi occupo principalmente di modellazione e basi dati, dimensionamento, amministrazione, sviluppo e ottimizzazione. I miei interessi nel campo di SQL Server sono il modello relazionale, le architetture dei DBMS, l'alta disponibilità e il disaster recovery. Quindi questi sono i miei focus group principali, focus topic principali. Per quanto riguarda la community, quest'anno ho ricevuto per il ventesimo anno di fila l'onoreficenza di MVP per SQL Server. Quindi anche qui sono un decano. E sono fondatore e presidente di UGIS, lo user group italiano di SQL Server, che è un pass chapter. UGIS esiste più o meno dal 2001, quindi da moltissimo tempo. e organizziamo regolarmente delle attività tipo partecipando alla definizione del SQL Server, delle agende, l'organizzazione, cose di questo tipo. Per chi non lo conoscesse già, vi invito a venirci a trovare su UGIS.org, siamo anche presenti nei vari canali social. Ok, passiamo al vivo della presentazione. e iniziamo con la configurazione. Vi dico subito che le novità che toccheremo riguardano solamente il database engine di SQL Server. Ci sono anche delle novità che riguardano poi naturalmente il rapporto in services e tutti gli altri componenti della suite di servizi che si trova all'interno di quello che si chiama SQL Server. Noi ci focalizzeremo invece solamente sulla parte di database engine. La prima cosa che vedremo riguarda la configurazione e per quanto riguarda la configurazione partiamo dall'installazione. Innanzitutto c'è da dire che una delle novità è il fatto che siano stati separati download, questa è una novità che c'era già nelle versioni precedenti, ma con 2017 è stato tolto un componente abbastanza corposo dall'installazione principale che sono i reporting services. Oltre a questo tutta la strumentazione la dovete scaricare separatamente, questo era già così dalla versione precedente, quindi per esempio il management studio che oramai è la versione del branch 17 che sarebbe quello allineato a 2017, quello che andrebbe scaricato che potete utilizzare tranquillamente comunque per amministrare e gestire anche istanze di SQL Server da 2008 in avanti, quindi non c'è nessuna ragione per andare a prendere versioni precedenti. Un'altra cosa che magari può interessare per chi sviluppa ad esempio la parte di business intelligence, integration services, eccetera, è il fatto di dover scaricare la parte di SQL Server Data Tools. Sempre per quanto riguarda l'installazione non c'è molto, dire il vero, come novità in 2017 perché la maggior parte delle novità erano già state introdotte nella 2016, ad esempio c'erano tutta una serie di opzioni di configurazione legate alle best practices del TempDB che sono state introdotte nell'installer di SQL Server 2016. In 2017 questa parte è stata, diciamo, un attimino fatto il tuning, adesso è possibile specificare delle dimensioni dei file fino a 256 GB, cosa che prima non era possibile, ma che ci si ritrova magari oggi con delle installazioni più grosse dover far fronte a direttamente nella fase setup di voler specificare le dimensioni maggiori. Inoltre, quando specificate le dimensioni dei file per il TempDB, se i file, se la dimensione maggiore è un gigabyte e la instant financialization non è abilitata, viene dato un avvertimento. La instant financialization è quell'ottimizzazione con la local policy che dobbiamo attivare se vogliamo che i file vengano inizializzati in maniera istantanea, quindi senza essere riempiti di zeri. Anche questa opzione di installazione è stata resa disponibile all'interno del setup di SQL Server 2016 e qui semplicemente si fanno dei controlli in più. Altra grossa novità è il fatto di avere anche un'installazione per Linux perché, per chi se lo fosse perso, non credo, perché è stato fatto talmente tanto rumore ovunque. SQL Server dal 2017 gira anche su Linux e quindi esiste anche delle modalità diverse per l'installazione in questo ambiente. È molto molto facile, si tratta semplicemente di importare le chiavi crittografiche, registrare repository e poi, a secondo del sistema dove li trovate, fare appgate, install update, yum zipper o qualunque cose di questo tipo. è anche molto molto veloce, se l'avete già provato o avete già visto qualche demo vi sarete resi conto che in confronto al setup di SQL Server sotto Windows i tempi non sono nemmeno paragonabili, tanto veloce. un'altra modalità di installazione disponibile per la versione su Linux è quella tramite Docker. Sempre su Linux viene reso disponibile un tool che si chiama MS SQL Conf che può essere utilizzato per creare gli script di installazione in modo da poter automatizzare l'installazione piuttosto che essere direttamente chiamato da uno script custom che potete farvi per fare delle installazioni. Inoltre sia MS SQL Conf che le installazioni fatte via Docker possono accedere a variabili di ambiente già inizializzate per portare a termine l'installazione. Per quanto riguarda le distribuzioni barra versioni di Linux supportate sono la Red Hat Enterprise 734 Ubuntu la 16 SUS Enterprise Server V12 SP2 oppure Docker Engine 1.8 o superiore su Linux Mac o Windows Anche i requisiti minimi per Linux sono molto bassi sono due core diciamo equivalenti a CPU da 2 GHz il supporto è solo per la versione 64 bit 3,25 GB di memoria anche se questi sono veramente requisiti veramente minimi minimi 6 GB di spazio disco con file system XFS o XT4 non sono supportate altre tipologie di file system al momento e comunque se volete vedere qualche cosa in più qualche avere qualche informazione in più riguardo la versione su Linux vi invito a fare riferimento al webinar registrato da Nino Dominici che fa vedere entra molto più nel dettaglio dell'installazione anche in configurazioni di altra altra disponibilità eccetera per quanto riguarda sempre l'installazione ci sono altri package su Linux che possono essere installati in maniera indipendente ad esempio msql tools è un package che contiene le librerie odbc per poter accedere a SQL un tool da riga di comando SQL command che è analogo a quello di SQL server in ambiente Windows che permette semplicemente di eseguire dei comandi SQL il tool bcp per effettuare import export massivi in modalità bulk insert e questi sono un package che raggruppa queste tre tipologie di tool poi c'è un package che contiene l'agent che è stato anche questo portato su Linux SQL server agent c'è un altro package che contiene la parte di full text indexing semantic search e infine c'è anche un package che contiene la parte che permette di installare ed eseguire i package di integration services quindi vedete che la copertura delle funzionalità su Linux è abbastanza ampia nel senso non è stato portato solamente a database engine ma anche altri servizi collaterali e ne saranno portati presumibilmente sempre di più visto che sta avendo abbastanza successo per quanto riguarda la strumentazione in generale su Linux dicevo si può utilizzare MS SQL conf per fare la configurazione i comandi di SQL possono essere eseguiti con SQL command oppure se non l'avete visto è uscito diciamo non troppo recentemente però molto dopo che è stata resa disponibile la versione su Linux di SQL server MS SQL CLI questo è un tool da riga di comando che è disponibile su Gtab anche in formato sorgente che ha anche delle cose carinissime tipo il completamento ma proprio a livello di ANSI ART quindi cose di questo tipo magari per chi si ricorda le vecchie Norton utilities o cose di questo genere apprezzerà questo tipo di strumento sotto Windows la strumentazione comprende come sempre il management studio il tool di riferimento principale per fare amministrazione e anche minimo di sviluppo normalmente per lo sviluppo si utilizza Visual Studio con l'estensione SQL server data tools oppure potete anche iniziare se avete già magari lo usate già per altre cose o siete abituati a usarlo Visual Studio code con un'estensione propria solamente particolare per SQL server altrimenti sempre a corredo come strumentazione potete utilizzare PowerShell per fare scripting e automazione in generale oppure SQL command che è il tool la riga di comando ma quello su Linux poi è stato introdotto ormai già da tempo un tool multipiattaforma sia per Windows Mac che Linux che chiama SQL Operation Studio che è perennemente in preview in preview ormai da non so quanto tempo da mesi e mesi però viene sempre aggiornato ed è lo strumento che diciamo probabilmente in un futuro molto lontano o non molto lontano chi lo sa soppianterà sostituirà il management studio qui andrebbe ringraziata la community italiana per avere fornito un ottimo supporto nella traduzione è stata fatta la chiamata alle armi per aiutare il team nella traduzione ed è stata raggiunta la copertura del 100% in tempi anche abbastanza brevi quindi anche questo è uno strumento se non avete mai visto vi invito a guardare sempre per quanto riguarda la configurazione un'area abbastanza abbastanza critica anche se non molti hanno utilizzato questo tipo di funzionalità è legata all'utilizzo del codice .net all'interno del database engine cioè se voi saprete che avete la possibilità di creare dei moduli dei moduli tipo store procedure eccetera scritti in .net con un linguaggio compilati in .net questi vengono compilati come assembly e caricati all'interno del database engine all'interno di .net ci sono una serie di funzionalità di sicurezza per evitare che il codice possa fare delle operazioni che non riteniamo siano lecite questa modalità che si chiama code access security non è più supportata come confine di sicurezza questo agli atto pratico significa che un assembly che ha l'impostazione permission set safe e quindi noi ci aspettiamo non possa accedere a risorse esterne o fare chiamate a codice non gestito in realtà riuscirebbe a farlo e quindi riuscirebbe anche in ultima istanza ad acquisire privilegi di Sysadmin quindi per via di questo cambio di questa problematica c'è una nuova opzione di configurazione che si chiama CLR strict security che tratta il permission set di tipo safe o external access analogamente ad unsafe e richiede quindi la firma dell'assembly e un accesso con autorizzazione con un login con autorizzazione per poter agire come unsafe assembly questa opzione è abilitata di default quindi di default potrebbero non andarvi più alcuni assembly e può essere disabilitata per compatibilità con le versioni precedenti quindi mentre cercate di sistemare le cose naturalmente questa soluzione non è raccomandata esiste anche un'altra via per poter diciamo mettere sistemare le cose nel frattempo però diciamo avere la possibilità di utilizzare ancora degli assembly mentre si stanno sistemando le cose ed è quella di usare delle white list per i singoli assembly quindi questa è una cosa che se non avete mai utilizzato questo tipo di funzionalità quindi integrazione con SQL CLAR probabilmente non vi interessa nulla dal punto di vista della sicurezza però per chi l'ha fatto è una cosa abbastanza importante a livello di configurazione database è stato esteso il comando di alter database configuration per chi se lo fosse perso nelle versioni precedenti questo permette di fare cose del tipo svuotare la cache delle procedure per i singoli database anziché per l'intera istanza permette di per esempio agire sulla cardinali sul come funziona il cardinali extimator indipendentemente dal livello di compatibilità permette di agire su altri parametri di configurazione in generale inoltre permette di definire questi parametri di configurazione ne permette una configurazione diversa su primary o sui secondari in una configurazione di tipo availability group questa funzionalità qua non è nuova di per sé di 2017 in 2017 è stata introdotta semplicemente una nuova opzione di configurazione a livello di database che quindi rientra in questo perimetro che è la cache identity che è off si può impostare ad off per evitare che ci siano dei salti quando staccate dei numeri tramite identity è analogo all'utilizzo del trace flag 272 un'altra cosa che è stata introdotta a livello di database sono le database scope credential quindi sono delle credenziali a tutti gli effetti che però non sono a livello di intera distanza ma sono a livello di singolo database e queste possono essere utilizzate ad esempio per poter accedere a blob storage o altre cose di questo tipo quindi anche questa è una cosa che è stata apportata a livello di database continuiamo poi con le novità per quanto riguarda lo sviluppo e qui anziché parlare troppo su quelle che sono i vari punti preferisco passare direttamente e farveli vedere tramite una demo ok sono un secondo che c'è un po' di lag nel passaggio al management studio ok la prima novità riguarda la possibilità di specificare un file group destinazione quando si utilizza il selecting tool quindi vediamo un esempio creiamo un database di test dove creiamo oltre al file group primary anche un file group secondary a cui facciamo afferire questo singolo file e a questo punto per essere sicuri impostiamo anche il file group primary come file group di default quindi di default se io facessi la selecting tool come in passato andrebbe direttamente sul file group primary quello che possiamo fare adesso però è specificare invece il file group come in questo caso selecting tool on secondary e vedete che semplicemente viene posizionato il secondary una piccola cosa che però può essere utile per fare delle ottimizzazioni oppure se non si ha ad esempio dello spazio disponibile to course vuole posizionare in un'altra parte i dati nella selecting tool ci sono svariati use case di questa funzionalità un'altra cosa che è stata introdotto è il supporto al formato il supporto diretto al formato csv per le operazioni di bulk insert e allora andiamo a vedere il nostro file di esempio questo è un file csv molto semplice è stato generato con powershell contiene semplicemente il nome dei servizi e il fatto che se partono in maniera automatica o meno quindi creiamo una tabella per poter importare questi dati e quando facciamo insert come vedete adesso possiamo semplicemente specificare come formato formato tipo csv e viene importato automaticamente senza dover specificare altro la stessa cosa lo stesso supporto è stato introdotto anche per la crasola di openroset però in questo caso dobbiamo fare una cosa in più e dobbiamo specificare anche un file di formato che definisce quali sono i nomi delle colonne ma soprattutto quali sono i tipi dato questo è necessario non era necessario nell'esempio precedente perché stiamo inserendo una tabella che esiste già quindi i metadati sono già noti al sistema in questo caso non stiamo inserendo una tabella ma lui deve materializzare un rosette e per materializzarlo non può basarsi semplicemente su ciò che trova all'interno del csv dobbiamo darne anche un file di formato con la definizione dei vari metadati allora facendo così vedete che effettivamente i nomi delle colonne di appresi e anche i tipi dato l'altro livello di supporto è quello per l'inserimento diciamo di dati accedendo direttamente al blob storage come facciamo a fare questa cosa questo è anche un esempio di utilizzo di quelle famose database scope credential di cui parlavo prima allora prima di tutto dobbiamo creare una master key per il nostro database di test e poi creiamo una database scope credential che deve avere come identità questo nome fisso che è shared access signature e come secret dobbiamo passargli la shared access signature generata in azure per quel container di quel blob storage passata attenzione quando la copiate togliendo il punto interrogativo iniziale allora creiamo questa credenziale una volta creata la credenziale creiamo un external data source che ha un nome ad esempio in questo caso azure container di tipo blob storage mappata su questo container e gli diciamo di utilizzare questa credenziale quella che abbiamo creato prima per l'accesso una volta creata questa definizione ricreiamo la nostra tabella destinazione dei servizi vedete che posso fare bulk insert from devo dare il nome del file csv ma in questo caso li dico with data source azure container formato csv e vado a prendere direttamente i file csv da blob storage quindi in questo modo può essere molto comodo ad esempio per mantenere dei dati massivi grosse quantità di dati all'interno del blob storage a dei costi diciamo competitivi e poter accedere direttamente tramite tramite SQL facendo delle bulk in proprio per farci delle elaborazioni ulteriori o cose di questo tipo ok questo per quanto riguarda quindi le novità legate allo sviluppo dei database altre novità sono state introdotte per quanto riguarda le tabelle temporali questa è una funzionalità che è stata introdotta già nella versione precedente di SQL Server aveva una serie di limitazioni alcune di quali sono state rimosse in questa versione la prima cosa è il supporto per il cascading dei comandi di delete update quindi possiamo definire cascade delete cascade update che non era precedentemente possibile la seconda cosa è il supporto ai criteri di conservazione cioè le policy di retention prima bisognava pensarci manualmente cioè fare degli script schedulati che andavano a fare da delete dalle tabelle di storico per i dati che volevamo svecchiare oppure c'erano anche degli scenari dove magari si poteva attivare lo stretch database attenzione ai costi per poter spostare i dati vecchi direttamente su Azure o addirittura implementare delle tecniche magari tramite il partizionamento delle tabelle per fare la cancellazione delle finestre rolling cose di questo tipo però il succo è che bisognava pensarci e buttare via i dati manualmente trattare i dati vecchi manualmente adesso è possibile semplicemente a livello di database abilitare la temporary history cioè dire che ci sono delle policy di retention automatiche e poi a livello di singola tabella possiamo dire definire qual è il periodo di retention ad esempio possiamo dire sei mesi oppure possiamo specificare in termini di giorni settimane anni oppure di mantenere per sempre tutti i dati quindi anche queste sono piccole aggiunte diciamo che rifiniscono alcune funzionalità che magari non erano non erano ancora tutte tutte finite come si doveva passiamo adesso ad alcune novità che riguardano lo sviluppo t-sql e anche qua preferisco farvele vedere direttamente che non parlare sulla slide la prima permette è una funzione che si chiama concatvs che permette di concatenare dei valori prendendo il primo valore come separatore questo concatena dei valori che arrivano da delle colonne ad esempio se andiamo a prendere l'assist database io posso concatenare il database id la descrizione del recovery model e la descrizione del containment separandoli con questo separatore che è il primo valore che è specifico e vedete qual è il risultato questi sono i vari database name recovery model simple e il tipo di containment attenzione quando utilizzate questa funzione al fatto che i valori null vengono semplicemente saltati quindi non rientrano tra i valori che poi vengono concatenati non è che mette uno spazio vuoto o cose di questo genere proprio elimina il valore questa funzione la potete usare per generare molto velocemente un file csv basta che le dite che il separatore è una virgola csv come vedete sta tornando molto di moda ultimamente quindi questo è un trucco per generarlo velocemente però dovete sempre fare attenzione ai nulli perché vedete qua altrimenti avreste diversi per ogni riga avreste un diverso numero di colonne quindi dovete preoccuparvene e la cosa più veloce da fare è usare la funzione is null nome della colonna e dare semplicemente stringa vuoto ok almeno avete il numero di colonne omogeneo altra cosa che è stata introdotta sempre a livello di t-sequel è la clausola translate che permette di rimpiazzare un insieme di caratteri con un insieme di caratteri quindi a parità del carattere passate una stringa questa funzione poi passate un vettore di caratteri e un altro secondo vettore di caratteri quando trova un carattere nel primo vettore lo sostituisce con il carattere nella posizione corrispondente del secondo vettore in questo caso sostituiamo tutte le parentesi quadre le parentesi graffe con delle parentesi tonde ok e anche in questo caso potete magari inventarvi come use case ad esempio è molto comodo per trasformare delle coordinate da geoson da json geo json dei punti in dei tipi dato punto e così via ok è semplicemente l'ultima cosa che volevo farvi vedere la penultima in realtà è il trim quanti di voi si sono chiesti ma perché esiste l'r trim e l'r trim e non esiste un trim da non so questa è stata una delle feature più richieste da non so quante versioni di SQL Server e ci sono svariati motivi per cui non è mai stata implementata il principale è che è una cosa abbastanza veloce da implementare quindi come priorità viene data priorità sempre bassa e non sono mai riusciti a farla rientrare finalmente c'è c'è e non solo permette come vedete in questo caso di fare il trim degli spazi sia in testa che in coda come ci aspettiamo ma permette addirittura di fare il trim di un qualunque carattere specificato all'interno di un vettore di carattere quindi in questo caso ad esempio il trim lo fa per i caratteri punto virgola punto esclamativo e spazio quindi qui toglierà il punto di qua tutti gli spazi e di qua non potrà togliere nulla perché inizia con il cancelletto ok quindi finalmente il trim è addirittura potenziato l'ultima invece cosa che volevo farvi vedere che riguarda lo sviluppo in t-sequel è una funzione di aggregazione per le stringhe mentre quella che abbiamo visto prima la concatvs permette di concatenare le stringhe che arrivano da valori specificati in sequenza oppure da colonne che sono specificate comunque in una sequenza di colonne questa qui prende semplicemente una colonna tutti i valori di tutte le righe quella colonna li concatena con un delimitatore che è quello che specificate quindi in questo caso andiamo a prendere il first name e diciamo di concatenarlo per tutti i first name che iniziano con z di concatenarlo con la virgola e vedete che ha preso da person tutti quelli che hanno first name che inizia con z e li ha concatenati attenzione subito una cosa se già facciamo la stessa operazione specificando tutti i nomi che iniziano con a vedete che mi ritorna un errore mi ritorna un errore un errore che è brutto tra l'altro perché è un errore runtime quindi me ne accorgo solamente quando ho il caso quando si verifica il caso questo perché perché viene utilizzato il tipo dato di base su cui stiamo operando l'aggregazione allora un modo per poter ovviare questo problema è quella di fare il cast della colonna ha un tipo dato che sia abbastanza grande da poter contenere i dati in questo caso è nevarchar max e allora vedete che il problema non si presenta più naturalmente bisogna fare diciamo bisogna non è necessariamente una best practice quella di fare il cast a nevarchar max perché ad esempio pensate nel caso precedente è vero che si è generato un errore runtime però è anche vero che così si è bloccata la query viceversa se io non ce l'essi avuto e questa qua fosse stata una query che magari specificando un predicato sbagliato sta operando su decine di milioni centinaia di milioni di righe questa continuerebbe ad andare e mi porterebbe ad un utilizzo della memoria molto alto magari anche ad introdurre delle instabilità quindi dovete pesare e sostanzialmente capire dove applicarlo però la funzione è molto interessante anche questa è una funzione che si aspettava da molto tempo ed è stata magari implementata anche l'avrete vista come custom aggregate fatti con il SQL CLR con il CLR quindi con l'integrazione di cui parlavo prima se volete utilizzare prendere dei valori distinti potete farlo dovete utilizzare però una CTE quindi non esiste un string ag di distinct dovete farlo tramite una CTE e diciamo questo questo è il quanto c'è un'estensione in più sulla string aggregate che vi permette di definire anche qual è l'ordine per l'aggregazione per esempio guardate che cosa succede quando facciamo questa aggregazione se prendiamo ami rusco vedete che questa ha più email però queste email sono state concatenate ma non sono magari nell'ordine che ci aspettiamo perché ci aspetteremo ami 3 ami 4 e ami 7 allora per poterle ordinare string ag dovete specificare anche within group order by e dire qual è la colonna di ordinamento delle righe che vengono poi mandate in input alla string aggregate allora in questo caso vedete che è ordinato esattamente come ci aspettiamo ok e poi potete pensare di utilizzare questa funzione per fare un sacco di cose ad esempio nello scripting per chi si genera i comandi t-sql tramite altri comandi t-sql ad esempio un attimo generare i comandi di insert con tutte le colonne numerate select tutte le colonne così di fare abbastanza velocemente quindi è una funzione molto comoda sono piccole cose piccole aggiunte che però risultano molto molto utili certo magari sicuramente non giustificano il salto di versione però se potete farlo ve le trovate disponibili sono comodi ok un'altra cosa che è stata introdotta in 2017 questa è abbastanza grossa è il supporto ai grafi il supporto ai grafi diciamo si basa su tre concetti principali il fatto che esistono delle tabelle di tipo node che rappresentano un'entità delle tabelle di tipo edge che rappresentano una relazione molti a molti che possono avere anche delle proprietà quindi relazioni con proprietà e che hanno un orientamento quindi si tratta di grafi o grafi orientati questo tipo di tabella connette due nodi due tabelle di tipo node in maniera orientata e poi l'ultimo concetto è quello di match che è comando tsql che è una condizione di ricerca per i grafi che permette l'attraversamento e il pattern matching anche in questo caso vediamo se facciamo un tempo magari a fine faccio vedere un esempio altrimenti ci sono delle presentazioni registrate da Sergio Govoni che vi fanno vedere molto molto bene molto più in dettaglio tutta questa parte di supporto ai grafi passiamo adesso alle novità per quanto riguarda le tecnologie di tipo in memory in questo caso tenete conto che moltissime delle novità sono state introdotte in realtà in SQL Server 2016 qui diciamo ci sono delle novità ma sono l'evoluzione più che altro la rimozione di alcuni limiti che c'erano fin dalle prime implementazioni che non sono non erano ancora stati rimossi nella versione 2016 per esempio per l'indici Colm Store in 2016 era già stato introdotto il supporto per le colonne calcolate non persistenti il supporto per i LOB i Large Binary Object solo per il Clustered Colm Store questo è già disponibile anche in Azure SQL Database e potete vedere un caso di studio dove vengono utilizzati i dati JSON con il Clustered Colm Store c'è il supporto per la build e la rebuild online degli indici non Clustered Colm Store e comunque tutte il riepilogo delle funzionalità per versione e per del prodotto lo trovate all'interno di questa pagina perché sono veramente veramente molte scusate tenete qui c'è un errore naturalmente queste che avete visto prima erano queste sono le novità nel Colm Store in 2017 ce ne sono state moltissime altre in 2016 in 2014 queste sono quelle di 2017 ho sbagliato nell'intestazione per le tabelle Memory Optimize in 2017 è stato introdotto il supporto alle colonne calcolate inclusa anche la possibilità di creare indici sulle colonne calcolate il supporto alle funzioni JSON sia nei moduli t6 compilati nativamente che nei vincoli check quindi è possibile adesso utilizzare le funzioni che interagiscono con dati di tipo JSON e poi è stato esteso ancora una volta ancora di più il supporto per i moduli t6 compilati nativamente ad esempio sono stati è stato introdotto il supporto per cross apply case top end with ties adesso si può utilizzare sp space used sp year name e così via per quanto riguarda le prestazioni invece sono state fatte due ottimizzazioni la prima riguarda l'alter table che è diventata molto più veloce quindi sono state fatte le ottimizzazioni interne e la seconda riguarda invece la ricostruzione degli indici di tipo bv3 sono gli indici quelli che aiutano le ricerche di tipo range che quando vengono ricostruiti durante l'operazione di recovery del database questa operazione è più veloce perché immaginate le tabelle tipo in memory optimize che sono persistenti quindi che sono hanno la durability non solo dello schema ma anche dei dati quando il database viene riportato online le tabelle devono essere diciamo ricreate in memoria compresi i loro indici e questo avviene durante la fase di recovery la ricostruzione di questi indici secondari tipo bv3 è stata resa più veloce perché poteva essere un collo di bottiglia in alcuni scenari un'altra cosa che è stata che è stata resa più veloce è la fase di redo perché viene fatta in parallelo quindi quando avviene anche qui il recovery del log delle transazioni la fase di redo in generale viene effettuata in parallelo ed è più veloce passiamo adesso ad alcune novità per quanto riguarda l'amministrazione anche qui passo direttamente alle demo anziché parlare sulle slide perché è un po' più diciamo intuitivo e pratico la prima novità è il fatto di aver introdotto tre nuove colonne nella sysdmo sysinfo socket count core per socket e numerode che ritornano esattamente queste informazioni e queste possono essere utili ad esempio quando si ha a che fare con ambienti virtuali dove bisogna magari fare delle valutazioni riguardo al numero di core shop che è disponibile cose di questo tipo un'altra dmv è stata introdotta è la dmos host info che ritorna delle informazioni che riguardano il sistema operativo perché come potete immaginare adesso il sistema operativo non è più solo windows ma c'è anche linux e quindi questa vista può essere utilizzata per capire dove si sta girando sostanzialmente qual è la release eccetera poi ci sono una serie di viste che non sono state documentate che però trovate trovate in giro magari su qualche blog post qualcosa del genere che possono essere comode per sostituire alcune delle store procedure estese quelle che iniziavano con il perfisso XP che anche quelle non erano documentate che però potevano essere comode per fare degli script di automazione la prima è quella che vi fa vedere i drive i drive montati per quell'istanza la seconda vi permette di enumerare i file all'interno di una directory e la terza vi permette di verificare l'esistenza di un file o di una directory quindi queste sono diciamo delle viste che possono essere comode per fare automazione altra cosa un altro punto che riguarda l'amministrazione altri metadati metadati che riguardano i database allora in questo caso sono state aggiunte le informazioni con la db log stats che vi danno le informazioni ad esempio sul numero di virtual log file all'interno del transaction log e anche tutte le altre informazioni legate al transaction log naturalmente ad esempio perché un log un transaction log non viene svuotato perché sta aspettando che venga fatto un backup perché c'è una transazione attiva o cose di questo tipo però tenete conto che informazioni quali il numero di virtual log erano tradizionalmente esposte solamente all'interno di comandi non documentati tipo il dbcc log info adesso le potete trovare qui ok il dbcc log info vi dà comunque il dettaglio dei singoli virtual log però normalmente non vi serve avere dettagli dei singoli virtual log ciò che vi serve per sapere semplicemente quanti ne esistono e questo lo potete trovare tramite questa dmv un'altra cosa che è stata aggiunta è stata aggiunta la colonna modified extent page count sulla sysdmdb file space usage che vi permette di sapere quanti extent sono stati modificati rispetto all'ultimo backup full e quindi vi permettono di implementare magari delle soluzioni di automazione di backup un po' più intelligenti che ad esempio valutano e fanno il backup differenziale se sono cambiate solamente un x per cento di pagine altrimenti lo fa full anche qui potete vedere con una breve demo vedete che tra il backup differenziale e gli aggiornamenti sono stati modificati 8 extent non avete mai un numero avete sempre anche se fate un backup full avete sempre un numero di extent che sono modificati perché riguardano gli extent di alcune strutture interne quindi qua ho fatto il backup del database full ho letto quanti extent modificati c'erano 40 ho fatto due update questi due update hanno toccato questo numero di extent e quindi posso decidere poi che cosa fare per quanto riguarda il backup altre cose piccole ma utili sono stati aggiunti i page count e space kilobyte al tram version store space usage che sarebbe la DMV che ritornano informazioni legate all'utilizzo del version store se state utilizzando la recommitted snapshot isolation o la snapshot isolation o qualunque altra cosa tecnologia che utilizza il version store quindi potete sapere adesso puntualmente quante pagine quanti kilobyte sono stati utilizzati e un'altra cosa che è stata introdotta è il fatto di poter accedere a qualcosa di più per quanto riguarda le statistiche se ad esempio andiamo a vedere quali statistiche ci sono per questo oggetto person.person queste sono le statistiche queste sono quelle che sono state create perché è stato creato un indice e queste sono statistiche generate direttamente dal database engine perché ne aveva bisogno autocrat stat era on allora prendiamo la stat id numero 2 e se andiamo a vedere questa vista la stat properties esiste da sempre esiste da sempre da SQL Server 2008 e ci dava una serie di misure legate alle statistiche tipo quanti colonne sono state campionate il numero di step eccetera ciò che è stato introdotto è stato fatto il porting anche a 2016 service pack 1 cumulativa dei 2 e il fatto di poter accedere ai singoli step dell'histogram come vedete in questo caso manca ancora una cosa per essere analogo a dbcc show statistiche sono le informazioni di densità queste si trovano ancora solamente all'interno tramite il comando dbcc show statistiche poi vedremo magari più avanti verranno introdotte anche queste tramite una di envia apposita un'altra cosa che è stata introdotta in 2017 ed è stato fatto il backporting a versioni precedenti è il dbcc clone database questo crea una copia vuota del database per permettervi di fare troubleshooting senza dover fare un backup e restore dell'intero database che magari è di dimensioni poco agevoli poco maneggevoli crea una copia che non contiene i dati ma lo schema è completo comprende tutto tutti i vincoli tipi dato moduli tcq qualunque cosa è contenuta all'interno del database comprese le statistiche quindi se fate delle query e chiedete una stima del piano in esecuzione queste si baseranno sulle statistiche effettivamente portate all'interno di questa copia e quindi sarà un piano in esecuzione abbastanza attendibile e anche i dati del query store quindi potete anche andare a accedere al query store e fare un'analisi ad esempio di regressione cose di questo tipo perché i dati del query store vengono portati dal dbcc cron database è un'operazione non bloccante la generazione di questa copia e il database è di come impostazione per definita di sola lettura ma potete anche modificarlo e renderlo in lettura scrittura per fare ulteriori test eccetera opzionalmente potete dire di non portare né le statistiche né il query store però questo diciamo che la maggior parte dei casi secondo me vanifica un pochettino l'utilità proprio per fare il troubleshooting quindi questa è una funzionalità molto utile per fare troubleshooting un'altra cosa che è stata introdotta è un'opzione a livello di query che si chiama use hint che vi permette di specificare gli hint i suggerimenti che volete dare alle query in maniera testuale con dei nomi anziché utilizzare i numeri trace flag quindi è diciamo analogo al fatto di usare query trace on e specificare un trace flag una cosa anche questa una piccola modifica che però andano avanti diciamo sarà più pratica o comunque renderà il codice più più leggibile miglioramenti per quanto riguarda i piani di esecuzione anche qua preferisco farveli vedere la prima cosa riguarda il fatto che sono di avere introdotto nei piani di esecuzione le metriche diverse metriche tra cui un secondo ok tra cui query time stats quindi quanto tempo è stato speso effettivamente per eseguire la query e quanto tempo è stato speso in attesa o in fare altro queste sono metriche che tipicamente in passato si ottenevano tramite con il set statistic time on sostanzialmente però non sono solo queste le cose state giunte è stato giunto anche il fatto di rendere evidente nel piano di esecuzione se sono stati utilizzati dei trace flag e se lo sono stati se sono dei trace flag attivati a livello di singola query con un int a livello di sessione o se sono dei trace flag globali e poi grande grande diciamo introduzione è fatto di poter vedere i wait stat direttamente i top 10 wait stat li vedete direttamente nel piano di esecuzione quindi io so che questa query qua ha aspettato la maggior parte del tempo 137 millisecondi a sing network io è normale questo qua è il tempo che accumula sia la latenza della trasmissione su rete sia la latenza dovuta ai client che stanno consumando il rosette quindi qua diciamo che è tutto tempo speso dal management studio per ricevere tutte le 4600 ringhe però è molto utile il fatto di poterlo vedere direttamente qua i top 10 wait stat ce li ritroviamo direttamente lì queste funzionalità qua secondo delle funzionalità il backporting è stato fatto anche a versioni precedenti di SQL per quanto riguarda sempre i piani di esecuzione è stata introdotta anche la possibilità di profilare l'esecuzione delle query tramite questa dmv potete vedere direttamente ciò che sta accadendo cioè il piano di esecuzione mentre lo sta eseguendo live sostanzialmente quindi prendiamo questa query la query deve che va in esecuzione bisogna specificare set statistics xml on oppure attivare il light wave polling a livello di interestanza tramite un trace flag una volta fatto questo chiudere le altre finestre una volta fatto questo riportiamoci il numero della sessione che è la 65 che vedete qui eseguiamo la query chiedendo anche scusate il piano di esecuzione lo ritorno già con xml e se andiamo a vedere vedete che posso vedere il piano di esecuzione e se vado a vedere nel hash match il numero di righe è arrivato a 260.000 se chiudo e vado a vedere qua la query che è finita vedete che però il numero di righe totali è 277 quindi il piano di esecuzione che ho catturato tramite la dmv era al momento in cui si trovava l'esecuzione ed effettivamente ogni operatore conteneva il numero di righe trattate fino a quel momento è un po' come il piano di esecuzione live che è stato già entro 8 versioni fa che potete vedere nel studio quello animato ed è la stessa cosa che potete vedere anche tramite la dmx query profile ad esempio se la rieseguo e andiamo a rivedere vedete che vedete che il numero di righe cambia man mano che la query è in esecuzione ok con questa dmv potete avere una versione in piano in esecuzione con questi dati correnti al momento in cui li state richiedendo quindi anche questo è molto utile per fare troubleshooting altra cosa che è stata introdotta come novità è il query store in SQL Server 2017 scusate si è stata introdotta nel query store in SQL Server 2017 la possibilità di avere wait start se ci pensate in 2016 query store è già utilissimo perché permette di fare troubleshooting di piano esecuzione vedere se ci sono regressioni qual è l'andamento se ci sono diversi piani esecuzioni dovuti magari a parametri diversi qualunque cosa però manca un qualche cosa che quando vedo nel query store che il tempo di esecuzione a un certo punto non è cpu time ma è latenza non so quella latenza a che cosa dovuta e allora devo prendere e iniziare a profilare le singole query con uno dei mille modi che ci sono in 2017 invece il query store è stato esteso per poter catturare anche i wait stat direttamente e quindi chiudere il cerchio con questa informazione mancante vi faccio vedere brevemente se lo attivate wait stat capture mode uguale a on rieseguiamo la stessa query di prima ci metterà un attimo dopodiché andiamo a vedere sul query store appena finito ci dovrebbe mettere ancora pochi secondi quasi finito ok andiamo a vedere il query store un attimino che c'è la latenza anche del povero query store per prendere i dati di consolidarli vediamo se ci sono troppo in fretta arriveranno comunque l'idea è che se andate qui e fate wait time qui vi troverete a un certo punto la query e vi troverete i dati di quella query scusate i tempi di attesa cioè i wait stat di quella query suddivisi per categoria potete anche accedere a queste informazioni direttamente tramite questa dmv e vedete queste sono le categorie cioè non vi trovate il singolo wait stat tipo network network async io trovate network io non vi trovate il page io lec shared exclusive eccetera vi trovate buffer io però li trovate avete già un'indicazione macroscopica di quali sono i tempi di attesa niente non vuole darmi soddisfazione come ogni demo che si rispetti qualche cosa va male comunque avete capito che cosa dovete fare ok passiamo la prossima cosa che riguarda il tuning automatico anche questa è una funzionalità nuova del 2017 e permette di correggere automaticamente i piani di esecuzione cioè è una funzionalità legata al query store e una volta che viene identificata una regressione di un piano di esecuzione se il sistema capisce che può esserci un miglioramento di almeno 10 secondi il sistema direttamente va a prendere l'ultimo piano di esecuzione cioè quello che era ottimale prima della regressione e lo forza questa è una funzionalità che è disponibile sia in SQL Server 2017 che in Azure SQL database e potete attivarla in modo che sia fatto automaticamente oppure le informazioni vengono esposte tramite una vista che è la dm di btuning recommendation dove potete fare l'analisi dei piani che hanno subito regressione e eventualmente agire manualmente quindi forzare il piano manualmente o cambiare la query tenete presente che questa vista però vi ritorna i dati solo se la regressione è stata identificata e la regressione significa che deve esserci una diciamo una differenza di 10 secondi tra il piano che decide che è regredito e il piano precedente altrimenti non la vedete non la cattura neanche un'altra cosa che però riguarda solo Azure SQL database è il fatto di gestire automaticamente gli indici questo purtroppo non esiste ancora nella versione on premise però ipoteticamente potrebbe arrivare magari un giorno è il fatto di creare eliminare gli indici dinamicamente in base all'analisi del carico di lavoro verificando l'effettivo utilizzo una volta che sono stati creati ed eventualmente buttandoli via se non sono utili dietro le quinte viene utilizzato un vero e proprio modello di machine learning che permette di fare questa cosa passiamo adesso alle novità per quanto riguarda l'alta disponibilità al disaster recovery non c'è niente di nuovo per quanto riguarda failover cluster instances diciamo che l'ultima novità un po' significativa era stata introdotta in SQL Server 2016 ed era la possibilità di utilizzare i group managed service account che sono dei gruppi gestiti direttamente da Active Directory che provvede alla rotazione automatica delle password quindi questi possono essere usati per il servizio di SQL però è una cosa che riguarda SQL Server 2016 in 2017 in realtà c'è semplicemente il supporto del failover cluster in Linux quindi esiste questa possibilità per quanto riguarda gli availability group in 2017 c'è il supporto alle transazioni cross database coordinate tramite MSDTC attenzione perché questa è una delle cose che qui è scappata a moltissimi fino a 2016 non c'è un supporto per il coordinamento delle transazioni di nessun tipo in 2016 è stato introdotto il supporto per le transazioni cross istanza tramite il DTC ma non cross database per la stessa istanza che magari intuitivamente uno si aspetterebbe che avessero implementato prima uno e non l'altro però è stato fatto così quindi il supporto per le transazioni cross database in availability group è stato introdotto solo dalla versione del 2017 è stato introdotto anche un numero minimo di repliche sincrone che devono essere confermate per far sì che la transazione sia dichiarata come andata a buon fine quindi non solo il fatto che scriva su una replica ma che scrive ad esempio su due se vogliamo avere due repliche sincrone e possiamo dire che basta che lui riesca a scrivere su una oppure che deve scrivere su entrambe è stato introdotto il supporto per gli scenari clusterless quindi è possibile specificare cluster type di tipo known questo abilita degli scenari nuovi tipo scenari di scale out non utilizzati strettamente per l'alta disponibilità oppure il supporto per Linux che è stato introdotto in availability group e anche qui cluster type di tipo known oppure external perché su Linux vengono utilizzati altri meccanismi ad esempio pacemaker e c'è anche il supporto per le migrazioni cross sistema operativo da Windows a Linux se volete migrare a fare una migrazione in modalità alta disponibilità lo potete fare utilizzando l'avvailability group passiamo adesso alle prestazioni per quanto riguarda le prestazioni siamo già sforreremo un attimino di una decina di minuti per quanto riguarda le prestazioni una grossa cosa è quella che si chiama l'adaptive query processing sono tre aree che di miglioramenti che sono stati introdotti miglioramenti automatici che permettono in maniera adattiva di far fronte ad alcune problematiche tipiche che abbiamo in molti carichi di lavoro la prima problematica si chiama batch memory grant feedback ed è diciamo una funzionalità che permette di fare in maniera adattiva il tuning della memoria che deve essere allocata per per alcune operazioni che vengono fatte in modalità batch possono capitare tre cose sostanzialmente o che viene assegnata troppa memoria rispetto a quella utilizzata in questo caso l'impatto può essere che semplicemente abbiamo del locking del blocking perché qualche altra query sta aspettando che li venga rilasciata la memoria perché non ce n'è abbastanza oppure potremmo avere dei veri e propri scenari di out of memory in generale potremmo avere una concorrenza ridotta perché viene data troppo memoria delle query che invece ne utilizzano poi alla fine meno quindi questo è un diciamo è un effetto un altro effetto quello del pur grant cioè viene allocata a memoria insufficiente e poi la query per poter essere eseguita andare a buon fine è costretta a paginare a fare quello che si chiama in gergo tecnico lo spill all'interno del TemDB l'impatto in questo caso è che la query è lenta e che c'è un eccessivo o che c'è un eccessivo utilizzo del disco perché dobbiamo andare a scrivere i dati all'interno del TemDB un altro caso è quello del grant increase dove dove è previsto che la memoria venga allocata e riallocata dinamicamente questo può avvenire diciamo in una maniera troppo aggressiva e qui l'impatto potrebbe essere la stabilità del server o comunque delle prestazioni non predecibili la funzionalità si chiama batch mode memory grant feedback e viene fatta sostanzialmente una valutazione post esecuzione del piano di esecuzione che contiene le informazioni che riguardano la memoria allocata e aggiorna il valore dell'allocazione nella cache direttamente dei piani quindi se è stata allocata troppo poca memoria la prossima volta che quel piano di esecuzione andrà in esecuzione ne alloccherà di più viceversa se è stata allocata troppa ne verrà allocata meno lo scenario è gestito di scenari dei piani di esecuzione che sono sensibili ai valori dei parametri cioè ci sono alcuni piani di esecuzione che devono fisiologicamente avere un'allocazione di tipo diverso e in questo caso siccome questa funzionalità continuerebbe ad abbassare e ad aumentare la quantità di memoria ad ogni esecuzione c'è un diciamo un meccanismo che si accorge di questo problema di questo loop e disabilita questo tipo di funzionalità quindi quando non è stabile si disabilita automaticamente siccome l'aumento viene fatto direttamente nella cache dei piani di esecuzione questo tuning non è persistente non è salvato da qualche parte tipo nel query store o cose di questo tipo quindi semplicemente se riparte distanza in meno del grant feedback deve diciamo rifare le valutazioni e rifare il tuning di questi piani di esecuzione perché non viene salvata l'informazione da nessuna parte inoltre tenete presente che l'opzione option recompile impedisce la memorizzazione del piano esecuzione e quindi anche implicitamente l'utilizzo del batch mode memory grant feedback allora anche questo ve lo faccio vedere velocemente perché è abbastanza interessante e quindi questa è una procedura semplice su un database di esempio che è il worldwide important dvh allora vediamo qual è il comportamento standard allora vediamo il piano di esecuzione e se andiamo a vedere vedete che qua c'è già un segnalatore di allerta e se andiamo a vedere nel tooltip vedete che già sotto lo dice the query memory grant detector excessive grant e dice che la memoria utilizzata è meno di quella che è stata allocata sostanzialmente se cambiamo il livello di compatibilità e lo mettiamo a quello di 2017 automaticamente si attiva anche il memory grant feedback anche se poi lo potete disabilitare puntualmente per database se volete farlo in maniera slegata dal compatibility level comunque automaticamente si attiva e vediamo che cosa succede la prima esecuzione vedete come prima mi ha dato il problema ma se io rieseguo vedete che il problema non c'è più perché se andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo in memory grant info vedete che la memoria che è stata allocata è minore di quella che era stata allocata precedentemente quindi l'ha messo direttamente dentro nel piano di esecuzione l'effetto che vi dicevo prima cioè il fatto che ci sono dei piani di esecuzione che fisiologicamente devono essere diversi lo possiamo vedere in questo esempio se chiamiamo la store procedure con il valore 1 abbiamo visto che serve meno memoria di quella che stima normalmente ma se lo chiamiamo con il valore 9 abbiamo il problema opposto e cioè andiamo a vederlo chiamandolo con il valore 9 vedete che ci mette già più tempo e scusate avrei dovuto chiamarlo con il piano con il piano con il piano già fissato quindi fatemolo fare direttamente allora vedete la prima volta allocato troppo poi l'ha sistemato adesso se lo chiamiamo con il valore 9 siccome nel piano ha detto di allocare meno memoria ok vedete che adesso abbiamo un altro problema il problema è tipo grant increase cioè la memoria allocata è troppo bassa e l'operatore di sort ha fatto uno spill lo vedete sotto warnings operator use tempi to spill data di earning execution quindi ha paginato se io però adesso richiamo con il 9 ancora una volta vedete che ha messo a posto la situazione perché perché se andiamo a guardare memory grant info ha rialzato la memoria che deve allocare naturalmente se adesso rilanciamo l'uno riabbasserà per più di una volta riabbasserà la memoria e poi il 9 la rialzerà e andrà avanti per un po' di volte credo una dozzina o quindicina di volte dopodiché si disabilita per evitare proprio di introdurre comunque un fattore di variabilità non c'è una bacchetta magica per questo scenario questo scenario bisogna risolverlo in altro modo ok quindi non è questo lo scenario che può essere che è il target di questa funzionalità ok questo per quanto riguarda batch mode memory grant feedback l'altra l'altro adaptive l'altra ottimizzazione che fa parte dell'adaptive processing è il batch mode adaptive joins allora questo qua è lo scenario dove una join può essere diciamo per la stessa query l'algoritmo di nested loop può essere migliore se una delle due tabelle che è quella che potrebbe essere la candidata come build table dell'algoritmo dell'algoritmo è piccola allora nested loop sarebbe l'algoritmo migliore viceversa l'algoritmo hash potrebbe essere migliore con grandi tabelle in input candidate come build table allora questi qua questo diciamo questo tipo di query dipende dalla cardinalità di una delle due tabelle il fatto che sia meglio un algoritmo di join o l'altro qual è il problema il problema è che una volta che il piano di esecuzione viene compilato viene compilato normalmente con una tipologia di algoritmo di join e poi quella utilizza in entrambi gli scenari e quindi sarebbe meno efficiente allora anche in questo caso una brevissima demo visto prima qui ok qui il piano di esecuzione per la quantità uguale a 360 migliore utilizza l'ashmatch ok perché ritorna 206 righe questo qua che ritorna meno righe è una tabella più piccola è il nested loop e vedete che effettivamente i piani di esecuzione sono diversi però se questi venissero cacheati ad esempio all'interno di nostro procedura avrei un problema perché sceglierebbe o uno o l'altro piano di esecuzione con questa modalità adattiva con il query con il scusate l'operatore di join adattivo possiamo toglierci dalle scatole questo problema perché perché viene messo un vero e proprio operatore che valuta runtime se utilizzare un algoritmo o l'altro e se lo eseguiamo utilizziamo anche query live statistic così ci dare percentuali di esecuzione dei vari rami potete vedere che l'operatore è sempre lo stesso adaptive join adaptive join però nel primo caso ha eseguito questo ramo del piano esecuzione perché vedete 100% e non questo quindi questo è l'analogo dell'ash mentre nel secondo caso ha eseguito questo ramo e non quell'altro perché quali conveniva fare il SIC quindi anche questo è un'ottimizzazione automatica entrambe le ottimizzazioni attenzione perché si applicano a scenari ben definiti per il momento la parola chiave è batch mode non sono attivi nessuno dei due di quelli due che abbiamo visto fino ad adesso non sono attivi per la modalità raw degli operatori di piano esecuzione ci sono sempre più operazioni man mano che vengono risciate nuove versioni di SQL Server che sono capaci di operare in modalità bulk anche senza avere dei column store di mezzo però tenete presente che l'operazione per potersi avvalere dell'adaptive di queste utilizzazioni adaptive deve utilizzare il batch mode in Azure stanno già introducendo il supporto anche per le versioni raw ma non c'è ancora nella versione on premise l'ultima ottimizzazione riguarda la interleaved execution questo è un problema che si ha quando si hanno quelle table value function multi statement quindi una funzione che ritorna una tabella un rosette che è fatta da multi statement t-sql all'interno del corpo della funzione qual è il problema che SQL server versioni 2012 e precedenti l'ottimizzatore assume una cardinalità fissa di 1 cioè qualunque cosa ritorni quella table value function magari ritorna un milione di righe l'ottimizzatore stima sempre che ne ritorna 1 a partire dal 2014 l'ottimizzatore stima una cardinalità fissa di 100 che è un po' meglio di 1 ma neanche troppo perché comunque ci sono molti casi dove non va bene neanche 100 a partire da 2017 quando parte l'ottimizzazione se incontra una di queste table value function che è candidata per poter essere eseguita immediatamente nella fase di ottimizzazione viene eseguita e poi l'ottimizzazione riprende con non una stima ma la cardinalità corretta perché ha eseguito proprio quel punto è chiaro che ci sono una serie di vincoli per poterla per essere candidata all'esecuzione durante la fase di ottimizzazione ad esempio il fatto che le vengano passati alla funzione dei valori costanti quindi non debba essere eseguita tutta la query completamente anche in questo caso ve la faccio vedere molto velocemente perché è abbastanza interessante più che altro per farvi vedere anche qual è il dominio di applicabilità scusate non l'ho selezionato vedete magari aspettate perché qua lagga molto lo faccio andare abbastanza lentamente questa qua è una table variable function che prende come parametro in entrata un evento e secondo dell'evento fa delle query che sono completamente diverse anche se ritorna un rossetto omogeneo scusate non devo averlo selezionato completamente allora ok rifamo ok allora andiamo compatibilità precedente 2017 e vediamo che cosa succede piano esecuzione ok piano esecuzione vedete che effettivamente estimated number of rows è 100 ma non va bene perché questa quella ritorna molto più 100 righe allora cosa succede siccome qua gli stiamo passando comunque il valore in maniera costante e che è uno dei prerequisiti se ci mettiamo compatibility level di SQL 2017 e rieseguiamo la query andiamo a vedere adesso cosa ci dice il piano di esecuzione allora vedete che dove che qui vedete che effettivamente estimated number of rows è 231.000 che è anche uguale all'actual number of rows perché ha eseguito proprio la table value function e poi è andato avanti a fare l'ottimizzazione e il piano di esecuzione è radicalmente diverso anche qui quindi in questi scenari dove avete queste problematiche diciamo che questa è una è una funzionalità che può aiutarvi out of the box allora prima di passare a domande e risposte beh abbiamo già abusato del tempo comunque vi dico ci sono altri altri altre demo quella che volevo farvi vedere molto molto velocemente per farvi venire magari l'appetito è quella che riguarda il supporto ai grafi allora molto velocemente perché appunto siamo già in ritardo vi faccio vedere come creare tre tabelle che sono dei nodi una per le persone una per i ristoranti una per le città inseriamo alcuni dati di esempio e poi creo delle tabelle che sono dei degli edge sono dei vertici del nostro grafo una che dice quali ristoranti piacciono a quali persone dando anche un attributo di rating uno che dice chi è amico di chi uno che dice chi vive in quale città e uno che dice dove si è situato in quale città è situato un particolare ristorante non entro nel merito della sintassi per poter fare l'inserimento dei valori che devono andare a reperire lì di fisico dei nodi perché altrimenti ci metteremo troppo però questo è giusto per farvi vedere una volta inseriti dei dati di esempio che possiamo verificare in questo modo possiamo fare delle query del tipo voglio trovare tutti i ristoranti che piacciono a John e dico match person con questa anzi asci art dico likes restaurant dove la persona è uguale a John e automaticamente lui mi attraversa il grafo e mi dice Taco Bell è il ristorante che piace a John ma posso fare cose più complesse del tipo posso trovare tutti i ristoranti che piacciono agli amici di John e questo lo faccio dicendo la persona 1 è amico della persona 2 a cui piacciono questi ristoranti e la persona 1 è John quindi in questo modo sto trovando tutti i ristoranti che piacciono agli amici di John in maniera molto semplice un altro esempio voglio trovare tutte le persone che abitano nella stessa città dove c'è un ristorante che gli piace quindi person like restaurant ristorante located in city situato nella città e la persona abita in quella città anche qua vedete come è molto intuitivo ed è molto veloce intendiamoci è tutto come si dice syntactic sugar per delle query che potremmo fare senza il supporto ai grafi perché queste qua sarebbero semplicemente delle grand join tra delle query normali non sarebbe un problema a farli però immaginatevi la riduzione di join che avete con questa sintassica e quella del match vi dico subito anche un'altra cosa che manca il supporto alla chiusura transitiva e anche questo è una cosa che c'è magari in altre soluzioni di supporto ai grafi arriverà probabilmente nelle prossime versioni un'ultima cosa riguarda un'area di integrazione che non fa parte diciamo è collaterale al database engine però la cito lo stesso perché è di grande attualità perché poi tocca comunque un pochettino il database engine è la possibilità di eseguire script direttamente fatti in python e r all'interno del database engine definendoli in maniera opportuna quindi c'è la possibilità di integrarsi direttamente con questi ambienti scusate per ritardo abbastanza estremo e non so se ci sono domande le potete fare adesso oppure mi potete mandare una mail i miei riferimenti erano in testa la presentazione poi comunque li trovate in giro scrivetemi pure non c'è nessun problema ci sono anch'io ancora qualche minuto per vedere se ci sono domande vi ricordo che renderemo disponibili sulla home page del virtual group il materiale che Gianluca gentilmente vorrà condividere e che la registrazione del webinar finirà sul nostro canale youtube se voi andate su youtube e cercate global italia virtual group atterrate sulla home page del del canale dedicato a questa registrazione e troverete la registrazione lì il tempo appunto di convertirla e caricarla domanda Gianluca come funziona lo scale out per i pacchetti si si di tsx ah non sono purtroppo non sono io la persona di riferimento a fare questa questa domanda so che esiste la funzionalità ma non è una cosa che ho che ho sotto il mio dominio quindi non so non so risponderti a questa domanda so che c'è la possibilità di deferire diciamo l'esecuzione di alcune parti dei package utilizzando un modello master slate ma è tutto quello che so molto molto fumoso in generale tutto quello che è fuori dal dominio del database engine sono poco attendibili perfetto se non ci sono altre domande inizio a ringraziare Gianluca ovviamente per la disponibilità vi ricordo che a ottobre ci sarà il prossimo webinar adesso francamente non ricordo qual è il titolo ma basta andare sulla home page del virtual group vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento al prossimo alla prossimo webinar grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti